Ciao a tutti ragazzi qui è il vostro ArtCavePage, sono qui in questo nuovo commentary, oggi sono qui per parlarvi del fatto che hanno aggiunto i personaggi Primis su Blackout, infatti l'altra Erch proprio ieri ha tweetato che hanno aggiunto appunto insieme ad altri update, altri cambiamenti, i personaggi di Primis su Blackout hanno inserito il coltello Bowie nelle zone di zombie, più altri cambiamenti in generale per quanto riguarda Blackout in sé, multigiocatore e zombie ma quelle non ci interessano. A noi ci interessa il fatto che abbiano aggiunto i nostri amatissimi personaggi, per sfortuna tra virgolette solo Primis per adesso perché gli ultimi comunque nel gioco non ci sono ma io spero che in futuro li possano aggiungere perché per quanto siano comunque simili secondo me le battute sono un pochino diverse e comunque anche proprio visivamente e fisicamente i personaggi sono diversi quindi sarebbe bello avere delle varianti diverse però già i Primis vanno abbastanza bene. Per adesso purtroppo sono stati aggiunti soltanto su PS4, infatti leggendo questo tweet speravo fossero stati aggiunti anche su Xbox One perché nelle patch notes non è specificato benissimo, comunque su PS4 hanno messo appunto i Primis e hanno rintrodotto l'evento del padre corrotto, diminuendogli anche la vita per quanto riguarda singolo e coppie mi sa perché era un po' difficile ucciderlo soprattutto in solo o in due. In scuola era un pochino meglio però soprattutto quando si era meno giocatori bisognava sparargli letteralmente armi su armi, caricatori su caricatori, qui adesso è un po' più facile ucciderlo e può droppare tutti gli oggetti per quanto riguarda i nostri personaggi Primis. Gli oggetti sono stati leakati su Reddit qualche giorno fa per cui le immagini già c'erano però adesso sono fatte un pochino meglio, purtroppo la qualità non è una delle migliori però sono prese proprio dal coci del gioco quindi la qualità delle immagini è quella che è. Per sbloccare Dempsey dobbiamo trovare la bottiglietta del Jug, mi dà abbastanza fastidio il fatto che ci sia la bottiglietta del Jug o comunque in generale il Jug soltanto su Blackout e non su Zombie ma vabbè hanno voluto fare questa cosa, potrebbe essere anche un troll però comunque con questa possiamo sbloccare Dempsey. Non sto qua ad andare nei tagli sul dove si può trovare e come si può fare, vi lascio in descrizione il link a Reddit dove viene spiegato come sbloccare tutti i personaggi di Blackout tra cui anche i Primis. Io avrei fatto dei tutorial però purtroppo appunto sono usciti soltanto su PlayStation 4, su Xbox One ancora niente, verranno aggiunti settimana prossima sicuramente. Per cui fare semplicemente dei video in cui dico qua dovrebbe esserci l'oggetto, sembrava un po' bruttino per cui preferisco lasciarvi il link in descrizione così potete vedere bene lì dove si può trovare l'oggetto, cosa dovete fare, che è tutto specificato molto bene e anche nei commenti la gente dà molti consigli su come fare per riuscire a sbloccarli. Non è difficilissimo sbloccare i Primis però richiede un pochino di fortuna. Per quanto riguarda Nicolai dobbiamo trovare il suo cappello da avviatore russo, questo secondo me è molto figo e ricorda molto appunto Nicolai perché già il Jug è stato messo per Dempsey perché a quanto pare è la sua bibita preferita comunque, anche se per Dempsey mi aspettavo qualcosa di un pochino diverso, però di lui di specifico non ci sono moltissime cose, mentre già di Nicolai abbiamo questo cappello. Per sbloccare i Ktofen abbiamo le Blood Viles, all'inizio si pensava che bisognasse usare la Raygan, questo perché già nel codice ai tempi della beta si pensava ci fosse una sfida per fare due kill di Raygan e così sbloccare i Ktofen. A quanto pare l'hanno cambiata o comunque non era così all'inizio del codice quindi bisogna trovare questi Blood Viles dalla fontana di Verruckt, dopodiché fare la sfida che ci chiede che se non sbaglio è finire in top 3 o qualcosa del genere. Le sfide di Nicolai e Riktofen mi sa che sono quelle pochino più difficili perché bisogna classificarsi abbastanza in alto, mentre quella di Dempsey e Takeo sono abbastanza semplici. Per Takeo, per restare nei cliché più assoluti, abbiamo una lettera dell'imperatore. Come ho detto questa sfida è anche abbastanza semplice insieme a quella di Dempsey, Nicolai e Riktofen sono sicuramente i più difficili da sbloccare. Per cui ragazzi, sono parecchio contento che abbiano finalmente messo i personaggi primis perché hanno già messo i personaggi della storia a caos, ho fatto anche dei video su come sbloccarli e quelli sono belli però ovviamente volevamo i nostri primis, i nostri personaggi. La nostra Q fidata per quanto riguarda la storia etere. Purtroppo appunto sono soltanto su Playstation, ripeto, per cui non ho ancora potuto sbloccarli. Io comunque sto continuando a giocare a Blackout, per cui sicuramente appena li metteranno vedrò di sbloccarli subito, che le sfide non sono per nulla difficili, basta trovare l'oggetto, fare una piccola cosa. Quindi se ci si mette l'impegno è abbastanza facile, ci sono sfide molto più difficili per quanto riguarda i personaggi della storia di Black Ops. Io per adesso ho comunque sbloccato Menendez e Mason e Reznof e Woods rimangono ancora i più difficili secondo me. Per cui ragazzi se siete su Playstation vi invito a buttarvi su Blackout, uccidere qualche padre corrotto o andare nelle zone di zombie perché quasi sicuramente troverete questi oggetti. E appunto già Dempsey è abbastanza semplice da sbloccare e due è forse uno dei personaggi migliori. Richtofen è forse uno dei più difficili perché comunque bisogna trovare l'oggetto di qualcun altro e buttarlo nella fontana. E comunque arrivare sempre se non sbaglio in top 3, mentre per Nicolai top 5 è abbastanza difficile per magari qualcuno che non gioca spesso a Blackout o magari non gioca proprio a multigiocatore o qualcosa del genere. Perché so che magari molti di noi sono giocatori di zombie e a Blackout ci giocano soltanto in parte e magari proprio non ci giocano. Io ci gioco abbastanza perché a me come modalità è piaciuto, il Battle Royale non mi fa impazzire però qua su Codlano hanno fatto molto bene. E a me interessa un pochino sbloccare tutto perché sono fissato su queste cose. Però comunque se per caso vi interessa non vi invito a buttarvi perché secondo me non sono troppo impossibili, con un po' di pratica li sbloccherete praticamente tutti o almeno un personaggio lo sbloccherete sicuramente. Per cui ragazzi spero che questo piccolo video esplicativo per questo update vi sia piaciuto. Vi invito come al solito anche a lasciare un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale e seguirmi su Twitch. Ci vediamo al prossimo video, un abbraccio, alla.